Delineati gli ultimi dettagli per lo svolgimento degli esami del primo e secondo ciclo di istruzione, sono state pubblicate e inviate alle scuole, infatti le ordinanze firmate dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. La maturità comincerà con la prova di italiano, uguale per tutti il 22 giugno alle 8.30, nella quale si potranno acquisire fino a 15 punti per la valutazione finale. Gli studenti e studentesse potranno scegliere tra tre tipologie di testo sulla base di sette tracce, e cioè analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, e infine il tema di attualità con la riflessione critica di carattere espositivo e argomentativo. La seconda prova, nella quale si potranno attribuire un massimo di 10 punti invece, sarà quella legata all'indirizzo scolastico, e quindi latino al classico ad esempio, matematica allo scientifico. Saranno questa volta i singoli istituti a predisporre la prova del 23 giugno, così da valutare sia l'attività svolta che la situazione sanitaria, con l'elaborazione di tre tracce da parte dei docenti della disciplina, facenti parte della commissione d'esame, seguendo anche le indicazioni dei consigli di classe. Il giorno della prova verrà poi effettuato il sorteggio della traccia da sottoporre agli studenti e studentesse. Infine, l'ultima prova sarà poi il colloquio, di fronte alla commissione formata da sei commissari interni e un presidente esterno. Durante il colloquio si farà riferimento anche ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, anche se il loro svolgimento non è un requisito di accesso alle prove. Per il colloquio si potranno ottenere fino a 25 punti. La somma dei punteggi delle tre prove si aggiungerà a quello relativo al credito scolastico per un massimo di 50 punti. È prevista anche la possibilità di ottenere la lode. L'educazione civica sarà una delle materie trattate nel colloquio anche per il primo ciclo, dove si prevedono sempre tre prove da svolgere tra la fine della scuola e il 30 giugno, con votazioni in decimi e possibile lode. Due prove scritte, cioè italiane competenze logico-matematiche e l'orale, con riferimento alle lingue inglese e la seconda comunitaria. Si svolgeranno anche per entrambi i cicli le prove in balsi, ma non saranno legate all'accesso alle prove. Videoconferenza consentita per far svolgere il colloquio per chi non potrà allontanarsi da casa.